Ragazzi mi trovo alla Kronos Digital Studio del maestro Geni Valentino e Davide Russo Niente, vi volevo ricordare che presto, molto presto, usciranno due singoli nuovi Nonché ci stiamo preparando per il nuovo lavoro discografico Con tanti autori, maestro Lucarelli, Rosario Armani, Francesco Francese e tanti altri Io vi mando un bacio, tenetevi pronti e preparati Pino a Giordano prossimamente Ricordiamo con la SC Production Un bacio, a presto